L'ultima mattina. Sì, come al solito. Sveglia all'alba. 6.59. Caffè, perché se non moriamo. Ultima passeggiata della vacanza. Almeno c'è il mare dietro, non le macchine. Esatto. Siamo arrivati al posto della colazione. E' troppo presto anche per fare colazione. Ancora chiuso. Cosa stai facendo? E' lo zucchero sul cappuccino con la panna. Sei schifo? E' così buono lo zucchero sulla panna. Che schifo. Si spaccia per il pietre al libro, ma si fa buono. Colazione, io due brioche, cappuccino di soia, cappuccino con la panna e adesso andiamo a prendere la focaccia e il pesto. E poi si torna a casa. Però siamo di qua. Tutti i fine settimana, anche se Harry chiese alla professoressa McGonagall il permesso di usare il reparto proibito... Ciao, ciao! ...e domandò aiuto perfino agli evitari della dalle pinze. E con quella sua avia da appuntoio, non trovarono un po' di odio. E già stiamo ascoltando... ...di trasportarlo. Familiari sensazioni di panico presero a tormentare Harry, che una volta ancora... ...e domandò aiuto.